L'Uomo Verde d'Alghe 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 Fecero segnali con le bandiere che portavano la figlia del re sana e salva e sul modulo c'era la banda che suonava e il re con tutta la corte. Furono fissate le nozze della figlia del re con il capitano. Il giorno della nozze nel porto i marinai vedono uscire dall'acqua un uomo coperto da alghe verdi dalla testa e i piedi con pesci e granchiolini che gli uscivano dalle tasche e dagli strappi del vestito. Era Baciccin Tribordo. Sale arriva e tutto parato d'Alghe che gli coprono la testa e il corpo e strascicano per terra cammina per la città. Proprio in quel momento avanzava il corteo noziale e si trova davanti l'Uomo Verde d'Alghe. Il corteo si ferma. Chi è costui? chiede il re. Arrestatelo! S'avanzano le guarde ma Baciccin Tribordo alzò una mano e il diamante dell'anello scintillò al sole. L'anello di mia figlia, disse il re. Sì, e questo è il mio salvatore, disse la figlia. E questo è il mio sposo. Baciccin Tribordo raccontò la sua storia. Il capitano fu arrestato, Verde d'Alghe come era si mise vicino alla sposa vestita di bianco e fu unito a lei in matrimonio.